Come diceva Piero Chiara, è l'amore per le piccole cose a trattenerci nel mondo e a farci gustare la vita. Infatti, è l'amore per la scrittura che mi ha portato ad essere una dei 26 finalisti del primo Chiara. Mi chiamo Samuela Braga, ho 17 anni e frequento il liceo linguistico di Varese. Nella mia vita mi piacciono fare tre cose, scrivere, recitare e sognare, perché i sogni si possono averare davvero, basta crederci.